E ora mi chiamo Elena. Martin. Edel. Faccio. Faccio. Ho deciso che voglio essere come voi. Parlare come voi. Pensare come voi. Ossè, ma com'è facesse? Lassù stanno. Ho riflettuto molto su me stesso e ho sentito come uno spirito creatore che mi divampava dentro, che mi incitava a fare di me uno degli orecchi attraverso cui il mondo sente, uno degli occhi attraverso cui il mondo vede. Insomma, voglio fare lo scrittore. Qua la gente viene a lavorare. Ti stai affaticando troppo? Fassi rotto mio. Questi libri non hai mani, che hanno? Ma almeno sai che parte se le apri una libri. Io non l'ho mai amato. Allora parliamo insieme. Ci sono amicizie importanti. Una bella raccomandazione. Mentre il magnavelete ti sento da fatica con te. No, ma quando scrivi sei troppo crudo. Tu vorresti che io togliessi tutte le cose brutte che scrivo? Che tessi una speranza? Quanti ne vedi morire di fame? Finire in galera perché sono dei poveretti, schiavi, ignoranti e stupidi. Lotta per loro, Martin. Quello che scrivi non si venderà mai. E noi non ci sposeremo mai e non saremo mai una famiglia. Ma io mi dovrei vergognare di raccontare tutto questo. Ah, signorina Elon, non è proprio te. Noi potremmo essere felici insieme. Noi non ci lo saremo, Martin. Ciao.